Buonasera, l'apertura dell'edizione serale del telegiornale riservata ad una tragedia che si è consumata a Palazzola Crede, comune del Siracusano, ancora sotto sciocco. Un bambino di 10 anni è caduto in un pozzo ed è morto annegato. Stava partecipando ad un campus estivo insieme con il fratello disabile. È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Vediamo. Un bimbo e una donna sono dentro un pozzo. Accorrete subito così. Inizia il tragico pomeriggio di Palazzola Crede. Scattato l'allarme, i vigili del fuoco sono arrivati con immediatezza in una contrada falabbia di Palazzola Crede. In quell'agro, il Pozzo Artesiano, profondo circa 15 metri, in parte colmo d'acqua, dove nella tardissima mattinata è improvvisamente precipitato Vincenzo Lantieri, dieci anni. Di Palazzola Crede era con il fratellino disabile, nel fondo attrezzato nell'ambito di un'agito organizzata dalla Grest della Cooperativa dell'Associazione Nazionale, famiglia di persone con disabilità intellettiva e relazionale. Secondo una prima ipotesi sarebbe salito sulla protezione metallica che copriva il pozzo, protezione che avrebbe ceduto sotto il peso. Il bambino è dunque sprofondato via. Una educatrice di 54 anni si è accorta dell'incidente. A propria volta si è calata all'interno del pozzo con una corda, ma poi è scivolata, precipitando. In mezzo all'acqua sono arrivati nel frattempo i vigili del fuoco che hanno tirato via la donna e ricoverato in stato di sciocco per le diverse contusioni in ospedale, poi il bambino, ma purtroppo Vincenzo, era già morto. Molto probabilmente per annegamento, secondo quando affermato dallo stesso comandante del reparto dei vigili del fuoco intervenuto, nel maledetto Pozzo Artesiano, la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Le indagini sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Siracusa, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica e anche capire se l'ultima giornata di questo Grest si sia svolta con le massime garanzie di sicurezza. Questo è il momento delle responsabilità, è il momento brutto, il momento brutto delle responsabilità, dove si cercano i responsabili per la morte di un bambino. Ma sappiamo benissimo, nel mondo tutto, le strade con le buche, qualsiasi cosa. In questo momento io tacerei su questo argomento, perché non mi sembra, è gente distrutta dall'altro lato. Abbiamo appena appreso che lei ha visto questo bambino praticamente iscriversi a questo Grest. Sì, sì, no, è lui. I genitori che lo scrivevano il giorno in cui hanno iscritto, proprio ci conosciamo, sono dei ragazzi che lavorano per il comune e quindi dice, cosa state facendo? Stiamo iscrivendo Vincenzo al Grest, ha finito la scuola, è stato promosso e quindi così si passa il tempo, fa qualcosa per non lo lasciare da solo con quel fratellino più piccolo. E questo è stato il ricordo brutto, chissà, se non l'avessero scritto, non lo so. A Palazzolo a Crede sono stati sospesi i festeggiamenti in onore del patrono. Momenti di preghiera sin da stasera per ricordare il piccolo Vincenzo. La piccola vittima è uno dei figli di una coppia del paese con il padre che svolge l'attività di Netto Urbino, molto noto a Palazzolo a Crede, in segno di lutto. Il parroco ha deciso di sospendere i festeggiamenti del patrono San Paolo. Cambiamo argomento nel mirino della polizia di Catania, le case fantasma nel quartiere San Cristoforo. Immobili cadenti, abbandonati ma protetti da inferriate. All'interno era custodita della droga. Sentiamo. Di case fantasma si parla in alcuni quartieri popolari di Catania. Da tempo si tratta di abitazioni fatiscenti in disuso cadenti, spesso è persino difficile individuare con esattezza il proprietario dell'immobile o di quel che resta dell'immobile. Vengono utilizzate le case fantasma, così come accertato anche nelle scorse ore dalla Polizia di Stato, per custodire in maniera per lo più temporanea quantitativi più o meno importanti di sostanza stupefacente. Si spiega così il blitz portato a segno dai poliziotti del commissariato centrale San Cristoforo nelle scorse ore proprio nei ruderi abbandonati del quartiere San Cristoforo di Catania. Con l'ausilio dei vigili del fuoco sono state smantellate alcune strutture in ferro che erano state poste a protezione delle abitazioni utilizzate come piccoli hub per lo spaccio. Lì veniva custodita la droga, bassi, abbandonati ma protetti, con porte blindate. All'interno è stato rinvenuto materiale per il confezionamento della droga, ma anche piccole telecamere per consentire la sorveglianza delle case dello spaccio. Sono stati sequestrati 200 grammi di marijuana, 100 di cocaina, 200 le persone controllate di cui con precedenti penali oltre 50, come pure 102 veicoli con la contestazione di numerose violazioni al codice della strada. Un 47enne è stato denunciato per furto di energia elettrica e inoltre scattata. La temporanea sospensione di attività di un esercizio pubblico è in via della Concordia perché monitorando il locale si è scoperto come lo stesso fosse frequentato da numerosi pregiudicati. L'azione di controllo è stata supportata da un elicottero del quinto reparto volo della Polizia di Stato a distanza Reggio Calabria e ha visto impegnato il reparto prevenzione e crimine, nonché l'unità cinofila antidroga della Questura e il decimo reparto mobile unitamente alla Polizia Locale. E torniamo sul fatto di sangue di ieri a Maschera. Tua figlia frequenta brutte persone. È stata questa la frase che avrebbe dato il via ieri appunto a Maschera, alla lite e finita poi nel sangue. Un morto attinto dalla rivale alla gola con delle forbici. Quella di Mascoli è comunità ancora ferita, stordita da quanto è accaduto ieri pomeriggio in via Roma. Una lite che è finita nel sangue dinanzi a numerosi testimoni. Il bilancio è tragico. Il 41enne Antonio Reciti colpito con delle forbici alla gola, morto all'ospedale di Giarre. Ferito mortalmente da Giampiero Blanco, 48 anni, disoccupato, arrestato dai carabinieri. Trovato in casa con la camicia ancora sporca di sangue, poco distante le forbici, le stesse forbici che poco dopo mezzogiorno aveva tirato fuori dal marsupio per colpire il rivale al culmine di una lite nata davvero per futili motivi. I due vicini di casa si sarebbero trovati casualmente in strada. Pare che Reciti abbia accusato Blanco di non essere un buono padre per via delle amicizie della figlia, una studentessa fuori sede poco più che ventenne. Questo avrebbe fatto scattare la molla della lite, poi probabilmente ha anche altre frasi sulle frequentazioni femminili di entrambi. Quindi botte, pugni, calci. Blanco, conosciuto alle forze dell'ordine, avrebbe a questo punto estratto la forbice che così diventando arma è servita per colpire Antonio Reciti. Proprio alla gola, di fatto è determinandone l'agonia e la successiva morte nulla hanno potuto i sanitari dell'ospedale di Giarre. Conoscevo la vittima, era un amico mio quando eravamo bambini, giocavamo assieme alle suore e onestamente sono sconvolto, meglio cerco di non pensarci. Ero meravigliato perché non le avevo mai viste insieme. Sicuramente si conoscevano perché il paese è piccolo, però assolutamente non le avevo mai viste insieme. Quindi per me è stata una sorpresa vedere l'amico mio con l'altro, con l'assassino. Durante una rissa scoppiata mentre era in corso la Santa Messa per il primo comunione della nipote, sparò un colpo di pistola che ferì un carabiniere rimasto poi paralizzato. Accadde a Cireale, adesso è stata confermata la condanna dell'anziano che aprì il fuoco. Il 5 settembre del 2021 ferì a colpi di pistola un carabiniere a Santa Maria degli Ammalati, frazione di Acireale. A poco meno di tre anni è diventata definitiva la condanna emessa dalla Corte d'Appello di Catania a 12 anni di reclusione per tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco nei confronti dell'uomo che sparò, Camillo Leocata, 71 anni. Fu lui che quel giorno aprì il fuoco e centrò il vicebrigadiere Sebastiano Grasso, 43 anni, che fuori dal servizio era intervenuto per aiutare i suoi colleghi a sedare una rissa davanti alla Chiesa durante la celebrazione per le prime comunioni. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dell'imputato assistito dall'Avvocato Michele Ragone, che aveva sostenuto la tesi dell'eccesso colposo di regittima difesa e della Procura Generale di Catania e delle parti civili sull'esclusione delle aggravanti. restano invariati, come confermate in secondo grado, le pene accessorie e i risarcimenti fissati in 805 mila euro alla vittima della sparatoria che era in Chiesa per la prima comunione del figlio ed ha subito gravi danni al canale midollare e a una vertebra cervicale e 20 mila euro al Ministero della Difesa, Comando Generale dei Carabinieri. Leocata, che era agli arresti domiciliari, è stato già condotto in carcere. Il processo è stato celebrato col rito abbreviato. In primo grado, l'imputato era stato condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione. Il movente della rissa, secondo la Procura, era da collegare all'assegnazione dei posti in chiesa per la prima comunione anche delle nipote dell'arrestato i cui genitori sono separati. Leocata ha sostenuto di essersi allontanato durante la funzione per andare a casa a prendere la pistola dopo aver percepito minacce rivolte al figlio dei parenti dell'ex moglie. L'anziano, durante la colluttazione accentrato in militare, sarebbe rimasto con la pistola in mano, nonostante gli investigatori gli avessero intimato più volte di metterla giù. Il tutto fino all'intervento del figlio, che con un gesto repentino gliela ha sfilata dalla mano. A Ustica, nel giorno dell'anniversario della strage, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiede ai Paesi Amici massima collaborazione per raggiungere la verità che ancora manca. Sentiamo. 44 anni dopo, gli 81 lutti della strage di Ustica rimangono ferita aperta per lo Stato. Non c'è ancora una verità assoluta, anzi. Da un lato la giustizia penale ha bollato l'ipotesi secondo cui ad abbattere l'aereo Italia fu un missile sparato non si sa bene da chi, forse francesi o americani, assolvendo gli ufficiali dell'aureonautica. Viceversa, la giustizia civile ha accolto la tesi del missile e il Governo è stato condannato a pagare. 44 anni dopo. Oggi sulla vicenda torna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineando che nel cielo di Ustica si compie una strage di dimensioni in mani, ricordando nel contempo come ancora oggi una piena verità manchi e ciò contrasta con il bisogno di giustizia che alimenta la vita democratica. Per il Presidente la Repubblica non si stancherà di continuare a cercare e chiedere collaborazione anche ai paesi amici per ricomporre pienamente quel che avvenne. Mattarella rinnova i sensi di profonda solidarietà ai familiari delle vittime che non si sono resi davanti opacità, ostacoli, distorsioni. Verso la luce, sulle circostanze e la responsabilità della tragedia. Il Presidente ammette che sulla strada della ricostruzione della verità passi significativi sono stati compiuti, ma al tempo stesso la memoria e anche trasmissione ai più giovani dei valori di impegno civile che sorreggono la dignità, la forza di una comunità e le consentono di affrontare le circostanze più dolorose e difficili. Incendi nella Messinese, situazione adesso sotto controllo nella discarica del comune di Mazzarà a Sant'Andrea dopo giorni di duro lavoro da parte dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile che hanno permesso, impiegando mezzi aerei a terra, di creare una cintura tagliafuoco a protezione dei centri abitati. Nessun dubbio sulla natura dolosa dell'incendio. I sindaci del comprensione hanno fatto fronte comune per la tutela dei residenti, invitati a rimanere a casa per evitare esposizione e nubi tossiche. Ci sono stati momenti difficili, fa sapere il capo del Corpo Forestale, Luca Ferlito, ma possiamo considerare la situazione ormai tranquilla e le fiamme circoscritte nell'area in cui l'incendio si è propagato due giorni fa a causa anche dell'avvento ed è partito dall'alletto a secco del torrente Mazzarà. State vedendo le immagini di riferimento. Adesso andiamo a Palermo per occuparci dell'emergenza Covid dei lavoratori che sono in protesta. Sentiamo. Li ricordiamo tutti quando durante l'emergenza pandemica hanno contribuito con il loro impegno a mandare avanti le campagne di vaccinazione anti-Covid. Lo hanno fatto il più delle volte dietro le quinte svolgendo lavori di logistica come la pianificazione delle forniture mediche oppure affiancando i dottori nei procedimenti burocratici. Dietro la complessa macchina organizzativa degli hub vaccinali c'era il lavoro dei precari del settore amministrativo e tecnico meglio noti come ex lavoratori Covid. Il loro ultimo rinnovo contrattuale è scaduto un anno e quattro mesi fa. Al momento non lavorano e non hanno prospettive di stabilizzazione. Stamattina sotto la sede dell'ASP di Palermo in via Cusmano hanno manifestato per rivendicare il diritto ad un futuro lavorativo. Questi lavoratori del settore amministrativo e tecnico sono senza contratto dal 28 febbraio 2023 quindi da quella data sono stati lasciati a casa. Oggi siamo qui per rivendicare il diritto alla stabilizzazione ex legge 241-23 e per programmare il futuro di questi lavoratori così come hanno fatto altre aziende a Palermo e provincia. In origine il personale tecnico e amministrativo era composto da 700 unità tra Palermo e provincia. Di quel bacino oggi rimangono solamente poco meno di 150 ex lavoratori. Non lavoriamo più da un anno e mezzo e mi piace specificare il fatto che non abbiamo lavorato soltanto durante un'emergenza pandemica in cui non lavorava nessuno ma abbiamo svolto anche il lavoro ordinario all'interno dell'ASP. Siamo qui oggi per manifestare il nostro dissenso sul fatto che tutti i colleghi delle altre province siciliane hanno trovato una stabilizzazione all'interno sia delle ASP che degli ospedali territoriali mentre qui a Palermo chi ha prestato servizio presso l'ente ASP si ritrova assolutamente fuori. Una delegazione di ex lavoratori ha incontrato in mattinata il direttore generale dell'ASP di Palermo Daniela Faraoni. Al momento nessuna novità sul nostro futuro fanno sapere i manifestanti. Nuove assunzioni invece che andranno a rinforzare l'organico all'interno della MTS di Catania. Si tratta di ausiliari del traffico ad autisti del settore rimozione che beneficeranno anche dell'utilizzo di nuovi mezzi. Un importante passo in avanti per la mobilità della città di Catania. Questa mattina nella sede dell'MTS Sita in via Plebiscito il sindaco Trantino e l'amministratore unico di MTS Bella Via hanno accolto il nuovo personale che conterà 29 ausiliari del traffico e 8 autisti del settore rimozione. Si tratta di nuovi professionisti pronti a entrare in servizio con l'obiettivo di potenziare il servizio di vigilanza e migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza delle strade catanesi. La loro formazione è stata in tenza specifica per poter affrontare al meglio le sfide quotidiane del traffico urbano. L'azienda è un'azienda in forte espansione, in crescita, in continuo rinnovamento quindi su tutte le figure aziendali certamente ci sarà l'esigenza di chiamare nuovi collaboratori, soprattutto autisti, soprattutto personale d'officina ma anche personale impiegato nell'area più ampia della mobilità, quindi ausiliari del traffico e altri operatori che comunque consentiranno all'azienda di sviluppare i tanti servizi che oggi gestisce nell'interesse dei cittadini e del comune. Durante l'evento ampio spazio è stato dedicato anche alla presentazione dei nuovi carattrezzi e delle nuove vetture dotate dei sistemi di street control. Grazie a questi sistemi sarà infatti possibile rilevare automaticamente le infrazioni stradali migliorando l'efficienza dei controlli e garantendo una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. Non solo automobili però, i nuovi ausiliari del traffico saranno anche dotati di mezzi idonei a due ruote, perfetti per muoversi rapidamente e intervenire prontamente in diverse situazioni di traffico. Mezzi agili che permetteranno dunque di raggiungere rapidamente i punti più critici della città, acconsentendo ad una più efficace tempestività delle operazioni. Con queste nuove risorse e tecnologie l'amministrazione comunale di Catania punta a migliorare significativamente la qualità di vita dei cittadini, riducendo il traffico e aumentando di converso la sicurezza stradale. Un passo in avanti verso una città più ordinata e vivibile. Parliamo adesso di viabilità. Andiamo nel Messinese da terza direzione viabilità metropolitana della città metropolitana di Messina. Disposto all'istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla strada provinciale 39 di Forte Cavalli in corrispondenza del cavalcavia numero 1 dell'autostrada A20 che collega Messina con Palermo. L'ordinanza avrà a vigore a partire dal 1 luglio e sino al 5 luglio 2024. Il controllo dell'osservanza e delle prescrizioni è demandata dagli organi di Polizia metropolitana, Polizia municipale e quanti altri aspetti secondo la vigente legislazione. Parliamo adesso di allerta sismica precoce che può risultare determinante nell'attenuare gli effetti di un terremoto. E' il risultato questo di specifici studi approfonditi da un tecnologo napoletano. Ne abbiamo parlato con un esperto dell'INGV di Catania. Partendo da un'analisi del terremoto che colpì la Turchia e la Siria nel 2023, svelati segnali emessi dalla fratturazione del suolo prima dell'evento. Uno studio realizzato da un team di ricercatori del Dipartimento di Fisica Ettore Pancini dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia attraverso questa ricerca dimostrate le potenzialità e l'efficacia di un sistema di allerta sismica immediata che consente di prevedere l'impatto delle onde sismiche sul territorio inviando un messaggio di allerta al sito di interesse entro pochi secondi prima ancora dell'arrivo delle stesse onde. Il tutto con la possibilità di predire durante un terremoto le aree in cui il moto del suolo supererà una soglia limite di danno potenziale così come spiegato dal tecnologo Luca Elia con valutazioni condivise anche dagli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Uno studio che potrebbe aprire nuovi orizzonti? Riguardo l'early warning sismico diciamo di sì anche se questo è applicato in diversi paesi del mondo soprattutto in Giappone, in California, in Messico diciamo in Italia è solo applicato a livello sperimentale nell'area dei campi Flegrei ora ma nell'area Irpina più in generale. Anche all'osservatorio sismico di Catania abbiamo sperimentato questo tipo di analisi che viene fatto sulle registrazioni dei terremoti e questo consente un attimino di dare un'allerta precoce dopo l'arrivo della prima fase P di un terremoto. Sicuramente diciamo è un'applicazione molto interessante a livello generale anche se in Italia ancora non è normata dal punto di vista legislativo. Ci sono tutte una serie di sperimentazioni in corso che in futuro probabilmente porteranno alla sua applicazione. Beach Soccer protagonista a Messina in occasione del concentramento finale per l'assegnazione della Coppa Italia. Sono 16 le squadre in Lizza per conquistare l'ambito trofeo. Il Beach Soccer sbarca a Messina ed è la prima volta nei vent'anni di storia del calcio sulla sabbia. Da oggi fino a domenica prossima 30 giugno 16 squadre si affronteranno sul rettangolo di sabbia dell'Arena Beach Stadium di Torre Faro con in palio la Coppa Italia. Fantastica la location della Beach Arena con 1200 posti a sedere all'interno del village sviluppato su 5000 metri quadri con lo sfondo della suggestiva riserva naturale di Capo Peloro. Si disputeranno 8 partite al giorno ad eliminazione diretta con ottavi di finale, quarti, semifinali e finali e 32 gare in tutto all'interno del village. Una serie di attività, spettacoli, mini tornei dimostrativi di beach soccer per bambini oltre allo street food iniziative a carattere sociale ed ambientale per un evento complessivamente organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer grazie anche al patrocino del Comune di Messina e dell'assessorato all'atturismo della regione siciliana dell'Ars. Patrone di casa, il Catane Beach Soccer del presidente Giuseppe Bosco con la squadra catanese detentrice del titolo conquistato nel 2023 e prima ancora nel 2021, 19, 18, 2005 e 2004 che non nasconde la sua ambizione di primeggiare anche in questa circostanza. Con questa notizia ci fermiamo vi ricordo che potete seguire questa edizione del telegiornale sul sito reitv.it e sui nostri canali social l'informazione torna in diretta domani a partire dalle 14 ringrazio in energia Carmela Fagone e Fulvio Ferrauto e vi auguro la buona serata arrivederci